2 cappuccini per favore, ci voleva, ci vuole la propria, ma Cindy, l'uglia di sera cosa hai fatto? L'uglia di sera tranquilla, ho letto, film, basta, stai a 10? E io dovevo andare alla festa, adesso stanno solo 10 minuti, però... 10 minuti alla festa, solo 10 minuti, però devo dire che ne avanza quanto la pena? Sì, oggi è stato veramente... Poi anche il pubblico è stato veramente... Un unico pubblico quale andava via. Quindi abbiamo giocato anche con un bel doppio risultato. Sì, un bel doppio! Sì, alla prossima! E forza canna!